Per quanto riguarda la sicurezza stradale, la lotta messa in atto dal comandante della polizia locale di Erba con il famoso cannocchiale utilizzato per individuare quelli che sono al cellulare durante la guida. Come giudica questa decisione? Giusto sanzionare chi usa il telefonino, il telefonino in auto non si usa assolutamente perché è pericolosissimo. Il metodo adottato dal comandante Giglio per quanto riguarda la Lega è assolutamente bizzarro, sono contrario e siamo contrari sul fatto di vedere il comandante della nostra polizia locale col binocolo. Abbiamo chiesto, dato che poi in Comune Erba siamo la prima forza politica di maggioranza, che non si verifichi più un metodo di lavoro del genere anche perché poi a nostro avviso le priorità per quanto riguarda la sicurezza della città sono altre. Penso ai furti di abitazione, penso alla piazza Padania, alla piazza della stazione, penso a altre realtà. Fermo restando che va combattuto e sanzionato, chiuso al telefono, ma non è il metodo, un metodo corretto ci vuole anche un po' di rispetto per la divisa.